Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio appena pubblicato da SAP Società Archeologica, dal titolo La Chiesa di Santa Maria di Lugo a Campagna Lupia in provincia di Venezia. Scavi archeologici 2008-2010 a cura di Alexandra Ciavoria Arnau che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego Alexandra, a lei. Buongiorno a tutti o buon pomeriggio, non si sa mai su youtube a che ora ci ci ascolteranno. Io sono Alessandra Ciavarria, professore di archeologia medievale nell'Università di Padova e sì effettivamente di recenti abbiamo pubblicato questo volume, un volume di saggi relativo agli scavi che un po' di tempo fa ormai, tra il 2008 e il 2010 abbiamo svolto in questa piccola chiesa, curiosa perché oggi in provincia di Venezia ma è un sito che storicamente ha sempre appartenuto e è stato sempre vincolato invece alla provincia e alla città di Padova come vi racconterò. È un sito estremamente importante per la storia eh lo sviluppo è un po' la morte diciamo storica di Padova eh sotto l'eggida de della Serenissima. Ecco eh è uno scavo come vi dicevo ehm che è stato fatto ormai più di dieci anni fa è un libro eh molto atteso perché era da anni che eh lo volevamo pubblicare ma hanno intervenuto eh diversi aspetti che lo hanno fatto un po' eh ritardare tra cui numerose analisi che sono state svolte sia su eh i materiali eh dello scavo sia sul territorio perché è un libro che tratta c'è una parte importante sullo scavo eh fondamentalmente sulla sequenza no quello che abbiamo scavato sulle diverse fasi eh sui materiali fondamentalmente ehm ceramici ma anche materiale in vetro e altre altro tipo di materiali e poi un ampio cimitero eh che è stato rinvenuto attorno alla chiesa come è naturale comunque ehm e tutte le analisi bioarcheologiche che sono state svolte su questo cimitero questa è una prima parte del volume dopo c'è tutta una seconda parte nella quale abbiamo esplorato eh il territorio cioè noi pensiamo e crediamo che per i per voi lettori o eh frequentatori di questa di questa pagina eh sapete che un sito ha un interesse o ha una funzione all'interno di un territorio quindi è fondamentale comprendere il territorio nella sua sequenza il territorio dove si trova la chiesa ehm di Santa Maria di Lova a Campania Lupia e è un territorio molto particolare significativo territorio ai limiti della laguna e nella frontiera tra Padova e Venezia quindi da un punto di vista ehm dell'archeologia del paesaggio è estremamente eh importante comprenderlo per capire quale sono stati gli eventi da la preistoria fino al basso medioevo che hanno interessato sto territorio quindi c'è ehm un articolo del dottor Sestito che ha studiato la cartografia storica soprattutto ma anche la fotografia eh aerea per comprendere le caratteristiche di questo territorio nel tempo e poi anche sul territorio c'è un articolo su tenendo conto che stiamo parlando di una chiesa sulla rete ecclesiastica ehm come si è formato la rete ecclesiastica eh di questo territorio come si è svolto eh nel corso del tempo ecco se andiamo già mh più di preciso su ehm il tema specifico del volume gli scavi in questa chiesa bisogna dire che la chiesa è una chiesa eh non ha niente di estremamente diciamo particolare da un punto di vista architettonico è una chiesa mh oggi intonacata è una delle maggiori disgrazie che può succedere a un edificio storico che venga eh intonacato perché intonacando lo perde po' la sua sequenza e la possibilità di leggere la 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 storia di un edificio nelle sue murature no? Voi sapete tutti che da un po' di anni che eh gli archeologi soprattutto gli archeologi medievisti studiano non solo i le strutture sepolte o che noi archeologi possiamo eh mettere in luce ma possiamo anche studiare con metodi archeologici le architetture cioè le diverse fasi che si possono osservare guardando i muri eh di un edificio tagli finestre tamponamenti eh rialzamenti ehm cambiamenti eh nella tecnica costruttiva eccetera questo oggi non si può più fare nella chiesa di Santa Maria di Lugo perché l'hanno dipinta ecco questo è una disgrazia mi piace che mi è venuto in mente dire questa cosa perché è una cosa che odio che eh intonacchino gli edifici in questo caso avevamo avuto la fortuna e le ricerche in questo sito nascono già eh negli anni novanta quando il professor eh Gian Pietro Broggiolo il ex ordinario dell'Università di Padova per archeologia medievale si era già preoccupato eh di questa chiesa e ne aveva fatto una serie di rilievi di fotografie e una lettura stratigrafica da questa lettura non in realtà non si poteva dire molto è una chiesa che nasce probabilmente dopo il mille ma non non ci sono dati eccessivamente evidenti è un sito importante da un punto di vista archeologico ci sono continui rinvenimenti in tutto il territorio eh di Campania Lupia ed è molto importante anche perché c'è una enorme sensibilità da parte della popolazione locale ci sono vari gruppi eh di archeologi che hanno individuato identificato e ovviamente consegnato alla soprintendenza una enorme quantità di di materiali archeologici una cosa che a me sempre mi è sorpresa e durante la presentazione del libro lo ho chiesto ci sono tanti rinvenimenti perché ci sono le persone che li trovano o è un luogo particolarmente ricco in rinvenimenti pare che sia un luogo molto importante da un punto di vista soprattutto dell'archeologia eh romana ricordiamo che in questa zona è la zona dove doveva trovarsi il porto di Padova è il luogo dove probabilmente ricordiamo che una volta Padova territorio di Padova il contado di Padova arrivava fino al mare e da lì eh traeva la la sua ricchezza in epoca romana e nell'epoca protostorica no? Attraverso il Brenta e il Bacchiglione arrivavano tutta una serie di prodotti ehm del Mediterraneo del dell'Adriatico fino alla città dove c'erano anche dei porti no? Padova per quanto possa sembrare assurdo era una città quasi marittima una città che perde questa importanza strategica sul territorio nel momento in cui Venezia praticamente le taglia l'accesso eh al mare anche per una serie di cambiamenti climatici ehm e trasformazioni nel corso dei fiumi e Padova smette di avere questo ruolo però è un'area estremamente importante. La popolazione di Campania Lupia il comune e e tutta una serie di ehm cittadini estremamente sensibili rispetto alla storia del loro territorio ci chiamano nel duemilasei duemilasette per se vogliamo scavare nella chiesa e ovviamente noi siamo sempre contenti che ci chiamino soprattutto se la gente ha interesse per quello che si può trovare e ehm e che cosa troviamo che cosa spiega eh questo libro boh mh fondamentalmente diciamo la fase più significativa più curiosa importante della chiesa non è tanto la sua funzione come chiesa ma il fatto che in un certo momento durante il 300 diventa una bastia cioè una fortificazione militare eh a difesa della frontiera tra il territorio di Padova e di Venezia questo l'abbiamo documentato con una serie eh di bucche di palo che appartenevano probabilmente alla palizzata che difendeva la chiesa è un grande fossato pieno di eh pale grande grande pale di pietra penso siano di catapulta o una cosa una cosa del genere ecco questa è la fase mh diciamo ultima fase del sito un sito che inoltre mostra una enorme quantità di materiale numismatico molte monete per trattarsi di una chiesa e piccole medaglie diciamo mh votive eh che probabilmente ci dimostrano che era un luogo di peregrinaggio e dove c'erano mercati no c'era il peregrinaggio si profittava in quella epoca quando c'erano i mercati anche eh per i pellegrini che andavano a pregare un luogo significativo per il territorio e questa però è l'ultima fase cosa succede prima del trecento in questo posto era una chiesa una chiesa con un ampio cimitero abbiamo studiato il cimitero una popolazione rurale le analisi su eh gli scheletrici mostrano che erano fondamentalmente contadini che vivevano a contatto eh con gli animali hanno qualche caso di brucellosi che mostra sto sto contatto con con la con la natura e con 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 gli animali ma anche pescatori che diciamo abbastanza evidente no vivono accanto alla alla laguna non è una chiesa con un cimitero privilegiato è la chiesa pievana con eh le persone che vivevano in quel territorio è molto curioso è molto curioso perché non troviamo fasi tardo antiche o alto medievali no sembra c'è un un uno spazio vuoto tra l'epoca romana e adesso vedremo cosa abbiamo trovato l'epa l'epoca romana è il momento di questa costruzione verso l'anno mille è strano dico perché ehm non è un territorio che sia rimasto vuoto c'ha i suoi problemi eh l'arrivo dei barbari cambiamenti climatici trasformazioni geomorfologiche però non dovrebbe essere stato un momento di di vuoto però noi sullo scavo e questo succede a volte sullo scavo di quel periodo lì abbiamo trovato poco o niente prima della costruzione della chiesa le le testimonianze più evidenti che abbiamo sono di epoca romana abbiamo trovato un grande mh mh butto o un deposito no e c'è un grande una grande buca che è stata riempita di materiale archeologico moltissime anfore che procedono di tutto il Mediterraneo e altri materiali ceramici databili tra il secondo e il terzo secolo gli esperti che hanno pubblicato questi materiali ne parlano come qualcosa di eccezionale di molto interessante per la conoscenza del territorio perché sono è un'epoca in cui non si conosce tanto la cultura eh materiale di questo territorio e quindi offre una possibilità nel futuro di confronti e di ehm materiali per conoscere sia le produzioni locali sia eh gli scambi commerciali non non raro nel senso che ripeto e questo diciamo è la idea che volevamo trasmettere soprattutto questo territorio come territorio di scambio di commercio eh portuale oggi no sembra lì che non c'è niente invece era una zona importantissima e la sorpresa che non ci attendevamo è la prima fase di insediamento in questo territorio non ce l'attendevamo perché io eh sono fondamentalmente una medievista posso scavare ehm strati e conosco i materiali di epoca romana ma sotto sti materiali di epoca romana è stata documentata una eh necropoli di epoca protostorica una necropoli a incinerazione con eh dei materiali ceramici molto belli che in più eh la sopraintendenza tenendo conto della eccezionalità di questo di questo cimitero che eh ci mostra già l'occupazione del dell'area lagunare durante questo eh periodo prima del dell'arrivo dei romani e comunque un una un popolamento ricco a a giudicare del tipo di di materiali rinvenuti la sopraintendenza eh ha eh contribuito allo scavo e a a questo eh a questi rinvenimenti con il restauro di molti di questi materiali che saranno sposti in un futuro eh nel museo eh di Lova ecco è un piccolo tessello per ricostruire una parte eh della storia della laguna e della storia di Padova e dei rapporti tra Padova e Venezia durante durante il Medioevo quindi speriamo che sia di utilità e che in futuro sto volume si possa essere usato sia eh per conoscere la storia del del territorio ma anche in archeologia questo tipo di volumi sono utili per poter confrontare individuare eh tipologie di materiali confronti ehm tra diversi eh oggetti eccetera ecco va bene così? Va benissimo è anche molto interessante io provo una certa invidia per gli archeologi che riescono a perché? Eh perché perché è molto eh deve essere affascinante scavare, indagare, repertare, studiare. Da una parte sì, da una parte sì ma è molto duro bisogna io credo eh l'archeologia è bella ma bisogna pensare che è anche attornata di un allo di bellezza adesso che fanno il film dell'Indiana Jones torniamo alle stesse cose è molto duro non solo mh per le lavoro nello scavo in questo caso ad esempio gli scavi in laguna sono scavi eh estremamente penosi in realtà perché evidentemente la falda è molto alta e bisogna scavare in mezzo all'acqua praticamente o con delle pompe che tirano fuori l'acqua che assorbono tutta l'acqua è molto duro è molto duro e dopo ehm riuscire e questo per questo ci abbiamo messo anche tanto tempo lo scavo è duro è bello ma è duro ma quello che è durissimo è portare a termine le pubblicazioni studiare tutti i materiali eh avere delle persone che si occupano eh di studiare le varie tipologie eh frequentemente in modo gratuito perché già a a malapena riusciamo a finanziare le pubblicazioni quindi bello il lavoro bello il risultato ma ma non è tutto Indiana Jones ecco voglio dire è un lavoro pesante pesante purtroppo purtroppo quando uno fa una cosa bella sembra che ah che bello mh ma che lavoriamo gratis invece invece no credo che lo stato e le regioni e i comuni in questo caso il comune di Campania Lupi ha finanziato eh il volume e eh la regione Veneto a suo momento aveva finanziato lo scavo quindi si possono fare queste cose quando ci sono delle istituzioni e delle persone a volte le singole persone che eh collaborano in tutto questo a differenza della storia l'archeologia ha un grave problema è molto costosa cioè lo storico va in archivio da solo e può riuscire a fare un libro delle ricerche l'archeologo ha bisogno di un di un team molto grande di mezzi ruspe eh pompe per eh drenare l'acqua eccetera una cosa costosa costosa economicamente costosa come sforzo quindi io reivindico che i comuni le istituzioni il ministero si renda conto di questo sforzo e ce l'ho come dire lo finanzi no non è che vogliamo niente altro lo finanzi a volte sembra che lavori gratis ah che bello ma è importante come riconoscimento anche no alla ricostruzione della storia senza la storia non siamo niente e e se l'archeologia e la storia finisce per sparire spariremo tutti con questo tutta la nostra storia se ne va ecco un territorio molto interessante molto beh è un territorio veramente io sono spagnola di Barcellona e quindi mi appassiona conoscere altri territori scoprire la storia di altri altri paesi in questo caso eh la laguna che Venezia è molto conosciuto la laguna molto meno è un luogo anche molto bello per per visitare per conoscere beh sì decisamente quindi bisogna ricordare il titolo la chiesa di Santa Maria di Lugo a Campagna Lupia scavi archeologici 2008-2010 appena pubblicato da SAP società archeologica e curato da Alexander Chavarri Arnau che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradità ospite e che io ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito a tutti voi invece ricordo di continuare a seguirci sul nostro camale youtube dove troverete oltre a questa video presentazione anche tutte quelle realizzate cino d'oggi grazie ancora grazie a voi gentilissimi grazie a tutti grazie a tutti